C'è tanta sofferenza e tanta fatica anche, non c'è soltanto la sofferenza di chi è malato, ma la fatica di chi lavora, quindi anche voi tutti. Allora noi vogliamo dare veramente un riconoscimento a questo. Il camminare all'interno significa riconoscere che in ogni realtà, che in ogni parte del c'è qualcosa di importante, di sacro, di vero, di sofferto, e che Gesù è interessato a tutto ciò. Allora noi vogliamo dare veramente un riconoscimento a questo.